buonasera buonasera a tutti benvenuti stasera ospite d'onore curo lili era ciao ciao cara come stai ma venone venone noi abbiamo fatto già un sacco di chiacchiere off live off stream sì sì per quello detto andiamo in live intanto stiamo chiacchierando come fossimo in live stavamo già chiacchierando per i cavoli nostri quindi è inutile farli aspettare oltre benvenuti a tutti benvenuti a tutti grazie a tutti i follow nuovi ciao asci ciao onker hervez ciao a tutti cari stasera parleremo un po' di videogiochi un po' di anime manga perché sarà assolutamente volentieri nerd al 100% vero cioè non ti precludi nulla non mi piace definirmi nerd perché nerd ha più forse una connotazione negativa geek sono una gamer sono una gamer che è appassionata poi sì vabbè anche di libri anime manga che poi mi dicono tesoro non vorrei dirtelo però quello è il significato di nerd però nerd sai ha sempre avuto una nota un po' negativa poi è diventato dopo fra virgolette popolare quindi è vero è vero perché all'inizio i nerd erano quelli della rivincita dei nerd eravamo gli spiegati ma più che altro quelli fissati con i computer esatto con i computer con i libri i anime i manga esatto però solitamente vergini esatto tra le altre cose l'indicazione è assolutamente negativa e c'era un po' lo stigma adesso siamo diventati improvvisamente super cool è vero adesso dire sono nerd è diventata una cosa figa però non mi piace comunque dirlo sono una gamer appassionata di diverse cose sì poi diciamo che è comunque un termine che tende a definire quindi se sei uno spirito libero un po' come sono io ci sta che non vuoi usarlo non vuoi l'etichetta assolutamente comunque diciamo allora io volevo chiederti quando è nata la tua passione per il mondo nerd diciamo quando è nata la tua passione per ste robe va benissimo dillo pure io adesso scherzavo perché appunto ti ripeto prima eravamo stigmatizzati i mostri hanno diventati improvvisamente super cool no ma è chiaro che poi da una parte è un bene e da una parte è anche un male come tutte le cose cioè i lati negativi e i lati positivi è un po' sì purtroppo sì anzi se vuoi Sara prima se vuoi presentarti anche un attimino se c'è qualcuno che magari non ti dovesse conoscere dicci dove streammi cosa streammi cosa fai insomma certo intanto ciao a tutti sono Sara a curo lili sul web e sono una streamer di videogiochi in generale faccio variety quindi gioco di tutto avventure punta e clicca horror mmrpg che sono tra i miei generi preferiti giochi dove c'è da farmare diablo like veramente veramente di tutto gli indie porto moltissimi indie perché comunque tengo sempre un occhio tengo d'occhio il mercato indipendente anche quello italiano e poi sono appassionata di libri da morire adoro leggere i fumetti li sto recuperando di recente anche grazie a voi amici del pub che mi state consigliando bene e anime e manga sì quelli fin da piccola ho iniziato i miei primi manga che avevo undici anni ho iniziato a collezionarne quindi dai ce l'ho da parere qual è stato il tuo primo manga? Marmellade Boy bello sì ho iniziato con piccoli problemi di cuore allora qui c'è da specificare però hai visto l'anime o il manga? perché l'anime è arrivato in Italia ah il manga ho proprio il manga che tra l'altro è il lire è il lire e l'ho preso mi ricordo sì ero piccolina avevo cos'è undici anni avevo mi sa in prima media quando è uscito o comunque quando l'ho trovato in edicola perché magari era uscito parecchio prima però io mi ricordo che l'ho trovato in edicola che ero alle media e era un edicola tra l'altro dove io passavo spesso perché leggevo riviste di videogiochi di giochi per il mio computer di Game Machine quindi riviste dedicate del settore che ricordo sì sì da piccolina prendevo sempre i loro mensili perché spesso poi c'erano dentro un sacco di demo e io le giocavo tutte e appunto lì ho trovato per la prima volta Marmellade Boy che non conoscevo i manga al tempo è stato proprio il primo che ho trovato ero appassionata del cartone animato perché vabbè l'avevo visto quando ero ancora più piccolina e ho detto oh Tom che cos'è che bello tutto in bianco e nero e lì quello è stato il mio primo manga poi l'ho preso tutto l'ho finito e poi da lì ho iniziato a prendere tutti gli altri invece che chiedere magari la paghetta per le figurine ho smesso di prendere le figurine lì mi ricordo c'è stato proprio lo stop perché collezionavo figurine da lì ho detto ok la paghetta delle figurine la usavo per i manga che costavano un po' di più quindi dovevo tenere da parte più soldini e quando hai visto che era molto diverso dall'anime cosa hai pensato perché in Italia è arrivato censuratissimo una storia completamente diversa perché non so se ti ricordi che loro erano tipo non scambisti veri e propri però si erano scambiati le coppie praticamente sì erano tipo hai detto bene erano quasi scambisti sì c'era la protagonista che si era messa col suo migliore amico e poi invece il protagonista che insomma adesso non ricordo Yu mi pare si chiamasse Yu era il biondo sicuramente Yu era il biondo e non mi ricordo invece il moro e Mickey e adesso non ricordo nella versione del manga come si chiamasse comunque vabbè loro due sì si erano scambiati di coppia praticamente con quegli altri due ragazzi ed erano innamorati praticamente l'uno dell'altro dell'altra coppia sì sì altro che beautiful no poi era venuto fuori che forse erano dei fratelli che erano fratelli verso la fine sì perché i genitori anche se erano scambiati i genitori erano scambisti pure loro quindi loro probabilmente erano fratelli e quindi dicevano no noi staremo insieme lo stesso anche se siamo fratelli quindi vabbè fornicazione di tutto e poi viene fuori il letto filieto fine a no non siamo fratelli che bello possiamo stare insieme e bombare quindi sì mi ricordo che da bambina è stato abbastanza mind blow perché ero abituata al cartone animato cioè per me non esisteva neanche la censura non sapevo nemmeno il significato di censura l'ho scoperto effettivamente con i manga la cosa bella è alla fine il letto fine che dice vabbè si può trombare senza problemi si può trombare esatto non siamo fratelli sì che poi da lì ce ne sono state tantissime altre di saghe che ho seguito anche quelle stracensurate su italia 1 mi ricordo tipo cortili del cuore anche quello se l'ho detto tanto sono tutti quelli dietro di me praticamente sì 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 ti manga e tutto cortili del cuore paradise kiss anche ray art bello una porta socchiusa ai confini del sole se non ricordo male i bellissimi adattamenti italiani sì 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 e poi vabbè the slayers che era un incantesimo socchiuso tra i petali del tempo per rina addirittura sì 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 tipo titoli assurdi e anche quelli super censurati addirittura i finali cambiati in the slayers praticamente c'era rina che nell'anime in italia ogni tanto aveva mal di pancia ma in realtà aveva le mestruazioni sì aveva le sue cose però lo censuravano sì 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 eh in the slayers in ray art addirittura hanno cambiato totalmente il finale mi ricordo come è andato in onda su italia 1 che c'era emerald la regina praticamente del mondo che si era innamorata di zakat oddio hai detto i nomi mi ricordo zero anche io sì e avevano totalmente negato il fatto che loro due si fossero praticamente suicidati perché si amavano talmente tanto che lei non poteva vivere senza di lui e stava distruggendo il suo mondo quindi mi ricordo che lì vabbè lì è ti esplode la testa quando vedi perché nel cartone animato finiva che erano tutti felici contenti insomma le tre guerriere salvavano il mondo ma in realtà loro erano costretti a uccidere la stessa mandante emerald sì 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 si suicidava per amore cioè queste cose totalmente negate mi ricordo nel assurdo assurdo ma anche in sailor moon ad esempio che c'erano dei personaggi travestiti anche quello c'erano tutto sì sì le stelle starlight sì esatto in italia no sono semplicemente delle donne normali anche se tutto faceva presumere il contrario no sai che era pure peggio sai che in italia avevano messo potere della stella gemella della sorella gemella è vero l'avevo rimosso erano uomini che si trasformavano in donne siccome in italia non potevano esistere uomini che si trasformavano in donne oddio casca cieca apriti cielo avevano loro mi ricordo invocavano potere della sorella gemella ed entrava in gioco la loro sorella gemella per la versione l'avevo rimossa questa cosa per la mia sanità mentale l'avevi rimossa esatto era autodifesa Kirio no per forza perché io sono sempre stato uno contro le censure di ogni tipo e siccome sempre stato grande appassionato di manga e anime le prime a cui diciamo ho assistito davvero che ci tenevo erano quelle e in italia ora no ora no chiaramente poi con Netflix Prime con lo streaming va tutta roba non censurata abbiamo una roba integrale e con i dvd e blu ray però prima era veramente una cosa indecente a partire dai nomi domono mocia rossana giocattolo dei bambini sì 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 anche lì ma già dai nomi cioè ecco il giocattolo dei bambini rossana è il giocattolo dei bambini rossana sì ma o li allungano tantissimo i titoli che diventano due paragrafi oppure rossana sì 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 vabbè comunque per fortuna questa cosa è passata e poi invece ai videogiochi come sei arrivata invece che ora sono la tua passione principale da quello che ho capito beh sni nel senso io in realtà sono più appassionata di libri anche se purtroppo ne posso parlare meno magari su Twitch ma in realtà no ne parlo anche tanto però sì forse è una cosa è una cosa meno interattiva magari esatto tendo a giocare di più però forse la passione per i libri ce l'ho ancora più grossa di quella per i videogiochi però con i videogiochi ho iniziato allora vabbè prima volta che ho visto un videogioco è stato da mio cugino ero piccolina piccolina e lui giocava a Prince of Persia su DOS mi ricordo su DOS addirittura su DOS sì ma io ero proprio piccola forse avrò avuto tre anni proprio piccolissima e mi ricordo che chiedevo a mia mamma di portarmi a casa di mio cugino perché volevo vederlo che giocava c'erano questi pixelini rossi che rappresentavano il sangue che faceva mio dio sangue e quello è stato penso uno proprio dei primi approcci che ho avuto col videogioco poi ho iniziato col Game Boy mi hanno regalato il Game Boy verso i sette anni se non ricordo male e poi da lì vabbè nove anni il mio primo PC perché poi mi ero super appassionata cioè ci si trovava comunque sotto casa con gli amichetti a scambiarsi le cartucce del Game Boy e vabbè io ho iniziato con Barbie perché mia mamma mi aveva regalato il Game Boy con la cartuccia di Barbie pensando che mi piacesse di più perché comunque vabbè giocavo comunque tanto anche con le Barbie e poi dopo quello ho preso Jurassic Park quindi c'è stato proprio il salto il salto di qualità Jurassic Park sempre per Game Boy sì ma è finito nella vita perché era difficilissimo no era difficilissimo dovevi cercare le uova e poi poi dopo quello lì vabbè Super Mario tutti gli altri e a nove anni mi ricordo che ho chiesto il mio primo PC perché appunto mio cugino era PC gamer avevo visto che lui aveva dei giochi particolari che io sul Game Boy non potevo avere e dicevo ah però vorrei un PC poi vabbè i miei insomma non avevano grossissime disponibilità economiche quindi mi ricordo come l'hanno fatto molto sudare perché appunto mi ricordo mio padre prese questo PC usato l'aveva comprato da qualche azienda che faceva il cambio dei PC quindi avevo sto piccolo catorcino che però dai io mi ci divertivo un sacco perché aveva anche il posto per i floppy quindi giocavo alla storia ancestrale non so se lo conosci che era una saga fantasy praticamente erano queste dispense che uscivano se non sbaglio erano 15 in ali uscivano ogni 15 giorni e c'era questa sorta di avventura grafica poi vabbè avevo i Geof of Empire avevo i Monkey Island i Broken Sword c'era mia zia che era appassionata di avventure grafiche tantissimo che era molto più grande di me lei aveva una decina d'anni più di me e mi ha passato tantissime avventure grafiche appunto tipo tutti i Broken Sword Monkey Island and Koi Fable mi aveva passato tantissima roba però Fable non quello che è diventato popolare dopo ma Fable uno molto più vecchio che conoscono in pochi appunto era un'avventura grafica e sono stata molto fortunata perché appunto mia zia mi passava tante avventure grafiche avevo il mio vicino di casa che anche lui era un pc gamer e mi prestava giochi quindi bene o male dai da piccola Sacred sono riuscita a recuperare un sacco di roba bella e poi vabbè mi sono appassionata e il resto è storia grazie mille vabbè questo devo dirlo anche se ha un nick un po' particolare grazie del abbonamento Vincenzo di Okane benvenuto eh purtroppo se sei abbonato devo dirlo e scrivi punto esclamativo sub se vuoi entrare nel nostro gruppo Telegram sicuramente ci faremo tante risate con uno con un nick del genere grazie e sai che io altra volta ero in live con i player inside parlavo di quanto anche a Raiden effettivamente piacessero un sacco le avventure grafiche così io pensavo invece che non avessero tanto successo in Italia che non avessero mai avuto tanto successo l'hanno avuto le avventure grafiche hanno avuto tantissimo successo al tempo era tutto il gaming la LucasArts aveva penso una delle più grosse fette di mercato prima che la comprasse la Disney e la chiudesse però sì la LucasArts aveva portato comunque con Green Fandango Monkey Island Full Throttle insomma tutti quei giochi lì giocavamo tutti quelli forse io ho avuto questa percezione perché giocavo ho sempre giocato su console invece che su PC quindi magari era più una cosa per quanto riguarda i PC gamer eh vedo che è la maglia del Mega Drive ad esempio io purtroppo vedi tutti quelli io me li sono persi eh quindi tu sei stata sempre PC invece che console io sono stata sempre PC allora sono partita con Game Boy in realtà poi appunto PC e la mia prima console è stata la Playstation 1 ah quindi hai saltato diversa roba io ho saltato tutte tutte le console praticamente perché ero su PC quindi giocavo avventure grafiche e gli RPG tipo i Neverwinter Night appunto Sacred tutta quella roba lì diciamo che hai saltato NES Mega Drive quelle generazioni Super NES nessuna nessuna di quelle console l'unico approccio che ho avuto è stato con la Super Nintendo che andavo a giocarci a casa della mia amica che aveva Donkey Kong bellissimo e lei ce l'aveva giocavamo da lei mi ricordo però sì io console sono cioè sono ripassata le console dal Game Boy con la Play 1 sempre stata su PC fino a quegli anni poi hai fatto anche un po' di retro gaming quindi comunque hai recuperato anche i vecchi giochi sì molte vecchie saghe le ho recuperate dopo e tra l'altro mi sono tante moltissimo le sto recuperando di recente una saga che devo assolutamente recuperare ancora non sono riuscita ad esempio Metal Gear Solid mi manca tutto Metal Gear Solid però purtroppo il problema è che il primo è un po' ingiocabile devo vedere se poi è il primo capito perché poi gli altri sono ok sono giocabili è il primo che è una cosa brutta perché il primo poi si a parte la giocabilità comunque rimane forse il più bello cioè avendolo giocato all'epoca all'epoca io infatti speravo in una remastered però considerando come è andata con Kojima e la Konami dubiti eh dubito sì 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 sarebbe bello perché a livello proprio di trama di intrecci è veramente un capolavoro guarda io penso che se facessero una remastered di Metal Gear Solid mettendoci dentro tutti la gente impazzirebbe ma sì sì decisamente è peccato perché ha litigato quindi non penso lo faranno mai diritti che se li abbiano in trambi sì poi lui è abbastanza uno di quelli duri e puri quando si mette in testa una cosa difficilmente è un po' un Alan Moore dei videogiochi eh sì però dai genio sregolatezza sì sì di solito è sempre così assolutamente assolutamente diciamo così senti un gioco un gioco mainstream e uno indie che ti hanno colpito particolarmente negli ultimi tempi allora un gioco mainstream degli ultimi tempi oddio mi viene in mente il 2019 perché se devo essere sincera negli ultimi due anni non c'è qualcosa che ti dico che veramente mi è rimasto tanto nel cuore forse Death Stranding però non lo reputo mainstream perché è particolare quindi non lo reputo mainstream se devo pensare a qualcosa di mainstream che mi ha colpito tantissimo è stato l'ultimo God of War che ha vinto tra l'altro anche il Game of the Year pazzesco veramente pazzesco per me vale la pena avere una Playstation anche solo per giocare a God of War devo giocarlo ti consiglio di recuperarlo perché dal punto di vista dell'ambientazione proprio di come hanno costruito i personaggi il combat bellissimo se no forse ti direi The Last of Us 2 ma neanche più di tanto perché mi è piaciuto però non lo so non mi è proprio entrato nel cuore Death Stranding forse ecco dai diciamo Death Stranding dopo ci dice anche l'Indie ma The Last of Us 2 cos'è che hanno ti ha colpito vabbè io l'ho adorato dico la verità no mi è piaciuto molto mi sono disperata però non lo so a differenza del primo mi ha lasciato meno nel senso che mi è piaciuto moltissimo emozioni forti però non so forse il primo è stato talmente tanto un capolavoro che secondo me era difficile replicare chiaro chiaramente i capitoli successivi sono sempre un pochino più sottotono magari rispetto al primo sì io sono stato contento più che altro del fatto che è stato un po' più lungo il primo era veramente molto corto il primo era veramente cortissimo e quando sei lì che dici no voglio giocarci ancora altre 80 ore poi ti finisce effettivamente beh quello è vero però forse il primo era più concentrato da quel punto di vista nel 2 c'era c'era molta molta esplorazione poi sì sì poi essendo anche due personaggi sì il finale è una cosa per me è bellissimo l'anno stracriticato per me è molto bello io l'ho amato è stato difficile è stato difficile giocarlo se togliamo da chi l'ha criticato una fetta di bigotti sì probabilmente esatto rimane rimane poco Abby è un personaggio bellissimo Abby best personaggio io Abby l'ho amata secondo me è un personaggio pazzesco ben costruita inizialmente si fa anche odiare probabilmente inizialmente la odio inizialmente la voglio vedere morta esatto questa la trovo io l'ammazzo cioè la odiavo sì 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 infatti il bello del suo personaggio è che si fa amare ma piano piano sì e il bello di The Last of Us è che ha comunque tutti i personaggi reali realistici poi alla fine perché poi sono tutti umani alla fine se ci pensi perché cioè è vero forse quello che ha lasciato tanto è proprio il questione di punti di vista perché parti con l'idea che lei è una bastarda la vuoi ammazzare vuoi vederla soffrire nel peggiore dei modi e poi ti rendi conto che in realtà lei ha sofferto tantissimo e sta cercando di fare di questo per mettere un punto nella sua vita e ripartire quindi sì ti fa veramente riflettere molto molto bello ti fa capire che ha le sue ragioni alla fine come tutti gli altri e quando si tende a diciamo patteggiare per qualcuno alla fine solitamente non si dà sempre per scontato che ci sia la ragione il bianco e il nero però spesso non è così spesso non è così più che dire che lei cioè più che far capire che lei ha le sue ragioni ti fa capire che in realtà proprio nessuno ha ragione perché nel senso tutti sono spinti dalla vendetta quindi né Abby né Ellie alla fine fanno azioni giuste entrambe comunque prendono decisioni spinte dal desiderio di vendetta e fanno una caccata dietro l'altra praticamente certo ti fa proprio capire il tracollo personale che può raggiungere un individuo lasciandosi andare a sentimenti di vendetta sì assolutamente comunque ci stanno chiedendo se andiamo al pub sicuramente dopo faremo un salto al pub sì ragazzi infatti abbiamo avvisato se c'è posto volentieri io vado sì sì è beh chiaro chiaro e invece il gioco indie che ti ha colpito di più maggiormente negli ultimi tempi negli ultimi tempi Soma Soma non so se lo conosci l'ho sentito parlare Soma secondo me è uno dei più belli indie mai realizzati poi ce ne sono tanti di belli ad esempio se vogliamo parlare di giochi molto recenti Valheim Valheim secondo me hanno fatto un lavoro spettacolare considerando che l'hanno praticamente fatto in 4-5 persone erano 4-5 ragazzi e ha avuto un successo incredibile quindi Valheim successone se si parla appunto di quelli ultimamente Soma te lo consiglio se non l'hai giocato perché è uno di quei giochi che ti fa riflettere e ti lascia tantissimo cioè quelli che ti lasciano proprio quel senso di vuoto quando li hai finiti che dici oh ok è molto bello molto molto bello è un thriller ok beh come genere ci sta alla grande alla grande sì 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 e senti il tuo nickname da dove viene Kuro Lili ma Kuro Lili in realtà vorrebbe dire dentro la mia testa pecora nera poi se lo traduci letteralmente sarebbe appunto Kuro Lili sarebbe Giglio Nero no? in giapponese viene da uno dei miei dei libri preferiti che si chiama appunto Il Giglio Nero che è stato uno dei primi fantasy che ho letto da bambina e inoltre io sono la più grande di sei fratelli e sorelle e sono l'unica mola sono tutti biondi tranne mio fratello Fabio le mie sorelle sono tutte bionde e tra l'altro ero un po' la pecora nera della famiglia per il fatto che mi sono dedicata al gaming mentre sai c'è quella che studia quella che fa sport io invece gaming quindi Kuro Lili era un po' il Giglio Nero nel significato di mosca bianca o pecora nera ecco ma tu ti sentivi pecora nera perché io effettivamente mi ci sentivo e mi ci sento ancora outsider sì sì ma no allora adesso non più ora non più assolutamente anzi mi sento molto accettata dal fra virgolette dalla comitiva dalle persone in generale al tempo sì mi sentivo molto outsider perché comunque ero l'unica nella mia classe che giocava ai videogiochi e non c'erano altre ragazzine che ci giocassero quindi non avevo veramente modo di parlarne con nessuno di questa passione a parte con il mio vicino di casa era una cosa che tenevo per me infatti cioè giocavo a casa da sola ma poi non lo dicevo magari alle amiche non è che le dicevo ehi sai sai che io passo il mio pomeriggio a giocare a videogiochi cioè si parlava magari di ragazzi di vestiti ma non di videogiochi quindi sì da ragazzina mi sono molto sentita un outsider finché poi non è arrivato il magico mondo dell'internet e allora lì ho scoperto appunto tante persone con cui condividere questa passione e adesso tuttora ho trovato un fantastico gruppo di amici che non sono tutti videogiocatori però c'è chi appunto guarda anime chi legge manga sono tutti nerd esatto ognuno a sto lato ecco io magari sono quella che gioco un po' di più rispetto a loro però mi sento ecco accettata da queste persone ecco non mi sento giudicata come magari capitava altrove questo è un bello spunto alla fine perché si dice sempre che internet ha diviso le persone che ci ha resi più distanti in realtà magari noi più tra virgolette emarginati ma nel senso a livello di gusti personali di passioni ci ha unito tanto si ha trovato la nostra via si con la community di twitch di youtube ho creato una rete anche di amicizie che nella vita vera quando ho iniziato soprattutto su youtube undici anni fa più o meno ormai non avevo assolutamente eh si e invece l'ho trovata su internet quindi sai sono un po' sempre le solite dicerie da da boomer si direbbe oggi si è vero no hai ragione hai ragione più che altro adesso è come se fosse il momento di massima espansione per noi quindi si si scoprono tantissime persone che magari coltivano questa passione o la coltivavano in segreto e adesso vengono fuori fanno per virgolette coming out è bello che alla fine internet abbia portato anche a questo sicuramente hai suoi lati negativi si io ci ho trovato più lati positivi che negativi ti dirò la verità certo ma quello sai come tutte le cose però anch'io assolutamente molti più lati positivi senza ombra di dubbio ma a proposito di boomer come è stata la tua esperienza con il magico servizio di cui tutti abbiamo parlato su report si 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 che poi alla fine tu non è che ci facessi una brutta figura eh anzi tutt'altro però per come l'hanno impostata loro la categoria ci faceva una brutta figura nel senso cioè tutti noi ci hanno un po' trattato da da disadattati sai già usare il termine loculi ci sono tanti termini per indicare la stanza di una persona io so perché poi il giornalista è venuto qua a intervistarmi a casa so che casa mia non è molto grande però addirittura loculi vabbè saranno cazzi tuoi comunque poi nel senso no ma nel senso cioè mi piacerebbe avere una casa più grande però se me la compra lui va bene esatto capito alla fine ognuno ha quel che si può permettere quindi sinceramente l'ho trovato molto offensivo che definisse le nostre abitazioni dei loculi più che altro perché l'oculo lo usi per dire cioè l'oculo è dove seppellisci i morti sì 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 c'è proprio è come se cioè come se ci avesse dato degli zombie quasi no beh che era un po' l'intenzione che è queste stanze buie questi loculi matizzarci capito far pensare che siamo come si dice i chikomori i chikomori sì 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 i chikomori sono quelli che non escono non escono mai di casa sì in Giappone sono quelli no no non di casa proprio dalla stanza perché è famosa sì sì è famosa la scena solitamente quando si vede un chikomori nei manga o negli anime è famosa la scena della madre o del padre che gli lasciano il piatto con il cibo davanti camera lui aspetta che il genitore vada via quando il genitore è andato via apre la porta e lo prende cioè lui nasce proprio dalla camera in prigione sì 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 però volontaria ma lì c'è tutto un disagio sociale chiaramente che poi però non ha nulla che spartire con il nostro contesto quindi non ho sinceramente capito cioè noi appunto lavoriamo su internet parliamo ok capisco che magari non sia la stessa cosa che vedere effettivamente fisicamente le persone cosa che poi tra l'altro noi facciamo perché alla fine con il nostro lavoro capita adesso vabbè siamo chiusi in quarantena ma fiere eventi io sinceramente ne ho sempre fatti e li faccio molto volentieri vabbè ma anche online cioè io ti dico personalmente ho fatto più conoscenze più gente conosciuta nell'ultimo anno con le live e tutto il resto che negli ultimi dieci ah sì sì pure io cioè anche adesso per dire che sono qua con te cioè qualcosa di buono il servizio di report ha portato alla fine anche Dario Dario mi ha invitato dopo quel video quindi se non fosse stato magari per quel video lì non avrei mai conosciuto appunto tutti i ragazzi del pub quindi dai diciamo che vediamo il bicchiere mezzo pieno diciamo che quel servizio anche se ha fatto un po' di casino di scalpore è servito fra virgolette forse per anche per ampliare anche la nostra rete di conoscenze la mia sicuramente perché io magari stavo molto più per conto mio invece poi tante persone hanno iniziato appunto a invitarmi per parlare di queste cose e mi ha fatto piacere appunto conoscere colleghi colleghi nuovi persone con cui avevo cose in comune e poi lì è servito perché almeno si è finalmente parlato del problema anche in televisione perché anche la gente che comunque non segue internet ma ha visto quel servizio non credere che tutti se la siano bevuta così eh perché per dire adesso c'è gente che mi ha detto Sara quel servizio era vergognoso persone che non sanno niente di internet e del mondo di videogiochi mi hanno detto proprio quel servizio era vergognoso quindi perché solitamente poi il report fa anche dei bei servizi cioè perché io lo sono rimasto un po' stranito perché a chi lo dici non era fondamentalmente il loro campo e non hanno avuto la voglia di approfondire un attimo cioè proprio loro che avranno fatto avranno visto boh una pagina wikipedia su cos'è twitch non sono andati non sono andati oltre capito mentre magari se fanno un servizio sulla finanza giustamente si documentano a fondo infatti quello è dispiaciuto perché io quando ho accettato di fare questa intervista ho accettato perché sapevo che era report mi avessero detto le iene avrei messo le assi alla porta capisci invece è uscito un servizio tipo iene capito esatto sì perché poi la cosa che no è strana è che molti dicono Eva voi del mondo dell'internet odiate la televisione e viceversa però tutti vorreste essere lì ma mica vero sinceramente no sono capitate che le opportunità ma a me sinceramente non interessa fare cose in tv che non hanno a che fare con quello che faccio io no ma poi dipende cosa mi dovrebbe portare eh ma infatti ecco a proposito tu sei stata in tv comunque anche in programmi sui videogiochi ad esempio sì esatto sì tra l'altro ho condotto un programma appunto House of eSports con Bossari che parlava proprio di videogiochi ma quello l'ho fatto stravolentieri perché era qualcosa che era divulgazione cioè si cercava di avere un punto comune tra il pubblico che a casa non segue il mondo dei videogiochi per cercare di portare nelle loro case l'eSports e quello che è la realtà dei videogiochi in Italia che molti ignorano senza fare sensazionalismo spicciolo no 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 era proprio un programma serio cioè prendevamo i videogiochi li analizzavamo proprio si parlava di non so Call of Duty ok quindi parliamo dei tornei di Call of Duty invitiamo i pro player di Call of Duty in trasmissione a parlarne i manager delle squadre quindi comunque era un programma televisivo proprio fatto tutto intorno ai videogiochi per fare un po' da ponte tra il mondo dell'internet e quello della tv quindi cose così ben vengano anche il pre-show di Sanremo che abbiamo fatto settimana scorsa ad esempio era un po' lo stesso esperimento al contrario però si cercava di attirare un pubblico più televisivo facendo un format televisivo su Twitch esatto quindi capito questi sono dei ponti fra virgolette fra le due realtà però se mi dovessero dire domani curolini chiudi baracche e burattini su internet vai a lavorare in televisione ma non lo farei mai sinceramente non mi direbbe nulla non è il mio sì ecco non è che noi vogliamo andare in televisione come a dire qualsiasi cosa ci offrano noi siamo lì pronti assolutamente no e ti dirò che io all'inizio uso v-sports non lo volevo neanche condurre proprio perché sapevo che andavo in televisione io all'inizio mi ero rifiutata perché sappiamo come va esatto perché avevo detto no io in televisione non voglio far niente gli avevo detto Karim non voglio far niente in tv e poi ne abbiamo parlato e lui mi fa guarda che è un'opportunità interessante no è così mi fa guarda che è un programma serio ci siamo informati abbiamo visto che effettivamente non andavamo lì a fare i fenomeni da baraccone e ho detto ok sai che c'è va bene però io ti assicuro che ho stramega valutato la cosa appena sapevo che era in televisione non è che ah sì in televisione vai vado assolutamente no anzi proprio perché so che in televisione ci vado con i piedi stradi piombo è chiaro è chiaro lì sapevi che Bossari era un appassionato anche sì esatto Bossari è super appassionato di VR quindi sì sì benissimo gioca a tutto di realtà virtuale e per Report sinceramente sono stata ingenua perché ho dato per scontato che è un programma appunto di divulgazione di informazione solitamente seria niente ripeto fosse stato un altro programma avrei detto di no sono stata un po' naive eh vabbè ma ci sta eh nel senso uno anch'io sinceramente anzi quando sono andato a vedere il servizio di Report che poi ho visto qui in live diciamo che c'era era abbastanza fiducioso perché comunque non lo guardo sempre però è un programma che ho visto per alcuni servizi cose che mi interessavano sono sempre stati seri questo no questo no sono caduti nella nel tranello di fare il servizio tipo le iene che si sa con loro si sa facciamo sensazionalismo si diciamo alla gente quello che vuol sentire ma infatti guarda anch'io l'ho visto in live e benché lì per lì lì per lì non mi era sembrato neanche così negativo però quando poi hanno iniziato a dire i loculi poi ah ma pagheranno le tasse infatti lì c'erano i ragazzi live che mi vedevano che ci stavo rimanendo male poi io magari non lo esternavo tantissimo però c'ero rimasta male dai eh sì perché tu eri in live mentre ti intervistava tra l'altro eh sì quindi dai ero un po' lì tipo ma dai sul serio cioè è stato due ore qua a casa mia veramente gli ho gli ho detto tutto quello che voleva sapere ha parlato con quei ragazzi se era anche c'era anche stato un bel clima eh mi sono fidata vabbè è stata stupida no vabbè vabbè stupida alla fine ti sei semplicemente fidata cioè tu sei la buona loro sono i cattivi quindi no vabbè sai non ci sono buoni né cattivi no per dire sono stata ingenua e invece con El Raton con questa esperienza serremese com'è andato lui simpaticissimo ah bene con Manuelito da dio guarda tra l'altro l'avevo conosciuta per il torneo di Among Us l'avevo conosciuto un po' prima perché l'avevo intervistato ad House of Esports l'avevamo chiamato per parlare di Macete Gaming perché anche lui comunque appassionato di videogiole poi hanno fondato appunto la community gaming con Macete quindi l'avevamo invitato proprio in qualità di come si può dire non di esperto ma di fondatore appunto lui e altri della Macete Gaming e l'ho conosciuto in quell'occasione abbiamo presentato insieme un torneo di Among Us ci siamo trovati super bene e poi lì infatti mi fa guarda devo presentare il pre-show di Sanremo ti andrebbe di farlo con me e ho detto sì figata su Twitch bellissimo quindi dai mi sono messa in gioco era una cosa molto fuori dal mio seminato molto fuori dalla mia comfort zone ma da quello che ho visto ti sei comportata non bene di più dai insomma mi sono divertita Kirio diciamo è stato divertente è stata una bella esperienza e poi mi trovavo appunto molto bene con Manuelito con tutte le persone della produzione è stato è stato bello quindi è stato lui comunque a volerti sì sì è lui che mi ha chiamato no no proprio lui mi ha telefonato mi ha detto devo fare questa cosa mi piacerebbe avere comunque una compagnia femminile di fianco per copresentare ti andrebbe e io ho detto wow sì beh giustamente e qualche curiosità qualche ricordo bello qualcosa di particolare con con gli artisti beh allora cose particolari tipo che io non ho dormito per una settimana prima di fare il pre-show perché ero agitatissima perché appunto era una cosa fuori dal gaming cioè non si parlava di gaming si parlava di Sanremo quindi molto molto fuori appunto dalla mia comfort zone quindi ero molto agitata per questa cosa non ho dormito per tantissimo e poi c'erano da fare delle foto dovevamo fare una sorta di servizio fotografico perché dovevano uscire le locandine e ero agitatissima perché non ho problemi con le telecamere zero cioè proprio non mi danno ormai non mi fanno né caldo né freddo ci vivo ci vivo ma se mi fanno le foto io mi rigidisco proprio ti pose e non mi muovo quindi sta cosa delle foto mi aveva messo talmente ansia che il giorno prima di fare le foto ho dormito tre ore quindi sono arrivata lì che sembrava uno zombie a queste foto e ma aneddoti particolari sugli artisti guarda o qualcosa che ti ha colpito comunque qualcuno che ti è rimasto più simpatico ecco ma la la make up artist la truccatrice con cui passavo un sacco di tempo perché era sempre lì che che mi rimetteva magari il trucco e no perché perché io poi sono smanacciona quindi che ne so magari mi mettevo le mani in faccia mi toglievo la roba che mi metteva lei subito lì che veniva mi seguiva col pennello e tra l'altro si è appassionata e mo vuole iniziare a fare twitch quindi si si con Carmen mi fa no bellissimo dai adesso inizierò a fare twitch anch'io faccio la make up artist su twitch si è casata tantissimo no guarda bel rapporto con tutti erano molto molto simpatici tutti comunque ragazzi e quindi c'era un bel clima siamo divertiti poi c'era Orietta Berti si Orietta Berti un mito mamma mia che ridere Orietta Berti ci siamo auto invitati a casa sua a mangiare le tagliatelle non sto ancora aspettando di mangiare queste tagliatelle da Orietta Berti infatti ogni tanto ricorderò a Manuelito che dobbiamo andare dalla Orietta a mangiarle quando non staremo in zona viola rossa fucsia guarda lasciamo stare non parliamo di questa roba se no mi deprimo tantissimo noi siamo in zona rossa in questo momento eh anche noi qua adesso ci rimettono rossa lasciamo stare poi tu dove sei adesso di città? in Toscana in Toscana e ora sono ammassa dalla mia ragazza residente io sono comunque Pistoia e lì è è rossissima c'è mio padre in quella zona lì è rossissima al momento proprio messa male infatti io per ora sono qui perché comunque ci si poteva spostare nelle abitazioni erano considerate abitazioni io sto qui un po' qui un po' là quindi sto qui per ora però non posso neanche tornare dal mio gatto per dire a casa ah ti capisco vado a casa da luglio guarda io so sono di Rimini e non vado a trovare i miei da luglio una cosa devastante infatti sto aspettando che finalmente si possa viaggiare cioè per assurdo posso farmi un viaggio all'estero ma non posso andare in Emilia Romagna è quello sì ci sono tanti controsensi tante cose che e poi sembra un po' che comunque vaghino a vista eh sì 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 quindi vabbè vabbè speriamo speriamo c'è la tua passione per i draghi invece sono curioso di sapere da dove da dove viene chiaramente poi sei un amante del mondo fantasy credo comunque no sì 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 i draghi mi sono sempre piaciuti sono creature magistrali mistiche immense sono proprio belli i draghi e fin da piccolina mi sono piaciuti collezionavo statuette action figure mia madre mi aveva regalato per il quinto esame per il quinto esame sì l'esame di quinta superiore mi ricordo mi aveva regalato questa statuetta di questo drago e collezionavo libri manuali per sapere di più proprio sulla loro anatomia mi sono fatta autografare tra l'altro due non dipinti ma due stampe di draghi da Siruelo che è un famoso disegnatore di draghi a Luca Comics quando vabbè ancora si poteva andare ai bei tempi ai bei tempi mi ricordo che mi sono anche commossa perché infatti c'era la gente che mi guardava strano dicevo ma ti sei commossa perché Siruelo ti ha firmato una stampa di draghi io sì non puoi capire chi è Siruelo ero casatissima sì è proprio belli i draghi una passione sono anche le viverne abbastanza proprio i draghi ebbè sono simili alla fine da quello che ricordo senti tu sei nata prima su YouTube o Twitch? no io su Twitch su Twitch allora in realtà YouTube ho iniziato nel 2006 forse addirittura nel 2006 se non ricordo male ho iniziato a caricare i primi video però erano dei gameplay veramente senza arte né parte cioè al tempo si usava a caricare magari sai le giocate più belle fatti di questi gameplay con le musiche dei Linkin Park sotto che non avevano molto senso con questi spezzoni dei personaggi che si incrociavano e camminavano quindi sì i primi gameplay li ho pubblicati nel 2006 su YouTube poi sono ho iniziato su Twitch che cos'era 2013 2013 2012 è un bel po' eh comunque ho iniziato parecchio tempo fa e poi poco dopo ho aperto un altro canale su YouTube dove invece pubblicavo video di gameplay e allora lì si con la telecamera perché al tempo non si usava a usare la telecamera sì sì era il gameplay puro esatto sì sì non facevi commentario cioè si pubblicava solo il gioco e noi non esistevamo praticamente quindi no dai sono dei bei ricordi ogni tanto mi riguardo quei video e rido e dico ma che cosa facevo perché poi ci mettevi giorni per montare sì sì io i primi tipo i primi due anni di YouTube sono tutti privati nel mio canale sì no io li ho tenuti pubblici perché così mi rendo conto da sola di quanto ero imbarazzante no vabbè ma io ho dei video dove c'avevo la cresta rossa delle robe improponibili bellissimo poi un giorno li metterò solo abbonati per gli abbonati che vorranno farsi due risate potranno vedere no fai le reaction ai vecchi video esatto devo fare un video reaction ai vecchi video non l'ho mai fatti ed è passato un bel po' è passata di acqua sotto i ponti eh lo farò lo farò sicuramente e comunque portavi sempre gaming all'inizio su Twitch o facevi anche Just Chatting o altro no no io ho sempre fatto solo gaming in realtà Just Chatting ho iniziato Just Chatting per modo di dire ho iniziato con le video letture appunto ho iniziato portando Lupo Solitario su Twitch e quindi Libri Game e quello è stato l'inizio del mio Just Chatting perché se no io ho sempre fatto gaming ho imparato dopo a fare magari un po' di Just Chatting nel mezzo però di base io attaccavo la live mettevo subito il gioco io attaccavo la live si giocava ho iniziato dopo appunto a fare un po' di Just Chatting a confrontarmi anche su discorsi appunto di anime manga telefilm altre cose magari anche facendo gaming perché alla fine poi chiacchieri comunque col pubblico quindi sì alcuni giochi per dire Genshin Impact è un gioco che devo farmare dove devo farmare quindi mi permette anche di poter chiacchierare mentre lo faccio quindi sì si parla veramente spesso e volentieri parliamo di anime mentre gioco a Genshin eh sì è un gioco molto stile anime effettivamente sì 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 ci sta e quando hai capito invece che poteva diventare un lavoro e che avresti voluto farlo diventare un lavoro soprattutto questo su Twitch eh quella è stata una scelta molto sofferta quando quando l'ho capito nel senso che io prima lavoravo in un negozio di videogiochi e avevo un indeterminato tra l'altro quindi era difficilissimo lasciarlo anche mentalmente immagino era mentalmente difficile lasciarlo perché era la prima volta che mi facevano un contratto indeterminato nella mia vita visto che comunque venendo da una città di mare ero abituata a fare a saltare di qua e di là da uno stage all'altro le stagioni comunque il periodo estivo da noi si lavorava tanto poi l'inverno non c'era quasi nulla quindi in realtà mi è molto pesato lasciare quel contratto proprio perché era un contratto il primo contratto indeterminato ho detto però facevo streaming da già quattro anni quando comunque ho deciso di farlo come lavoro a tempo pieno e facevo in inglese ero passata da poco all'italiano e vedevo che comunque dai il passaggio era stato meno drammatico del previsto perché comunque è stato ricambiare totalmente community cioè passare dalla community internazionale dove parli in inglese a passare a quella in italiano lì per lì anche quella è stata una scelta molto sofferta e molto drastica ho dovuto praticamente ricostruire tutta la community da capo però diciamo che nel giro di poco col fatto che comunque avevo già avuto esperienza in inglese quindi non è una persona che prende inizia la live per la prima volta è stato appunto meno devastante del del previsto e dopo circa tot mesi che facevo streaming in italiano ho detto sai che c'è che io quasi quasi lo faccio full time perché comunque il lavoro che facevo nel negozio di videogiochi era abbastanza frustrante non mi trovavo molto bene e inoltre i day one me li facevo tutti in negozi a vendere videogiochi quando in realtà volevo stare a casa a giocarli quindi ogni volta che c'era un day one mi ricordo che ero lì che facevo lo giocherò domani e e lì ho detto dai insomma lo streaming va bene avevo comunque una buona base di delle insomma delle entrate che mi permettevano di considerare di lasciare l'altro lavoro e quindi è una certa tu sai che c'è io ci provo ci butto tutti mi dicevano non farlo sei pazza molli un lavoro sicuro per cosa io ti dico Kiri alla luce di quello che è successo e 2021 oggi dico quale lavoro è sicuro dopo tutto quello che abbiamo vissuto poi nell'ultimo periodo quindi col senno di poi forse sono stata un po' non impulsiva no perché ci ho pensato tantissimo forse come si dice records in italiano lungimirante no 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 spericolata ok sono stata un po' spericolata a buttare via un indeterminato però allo stesso tempo mi dico alla luce di quello che è successo oggi che ho fatto bene poi oh stai facendo quello che ti piace sì doveva andare male però per fortuna è andata bene chiaro vabbè immagino che comunque avessi già visto cioè che i numeri c'erano che la community c'era e che c'era chi ti sosteneva insomma quindi non è che uno magari che fa tre spettatori si lascia un lavoro è chiaro no 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 ti assicuro è stata una decisione molto sofferta lasciare quel lavoro per dedicarmi full time alle live sono stata un anno a fare tira e molla fare avanti e indietro dicendo ma forse dovrei forse non dovrei cioè sono stata effettivamente un anno a pensarci e poi alla fine ho deciso di farlo e sono contenta di averlo fatto perché altrimenti non potrei fare tutto quello che faccio oggi dato che poi magari avresti il lavoro avresti no avresti rimpianti soprattutto in questo momento sì oltre al fatto che avrei avuto rimpianti questo comunque è una tipologia di lavoro che ti richiede tutte le energie che hai e tutto il tempo che hai perché devi progettare creare parlare quindi devi devi avere non devi essere stanco ecco non devi tornare da un turno di lavoro magari essere eh lo so lo so eh so che sai che cosa voglio dire esatto sì considera che io ho smesso di lavorare poco prima di iniziare la live quindi sì eh so che appunto non perché sennò fai fatica a dare il 100% capisci quindi è chiaro però bisogna sempre valutare certo certo è chiaro è chiaro senti io mi ero segnato anche la domanda anime manga preferiti però non so forse c'hai già risposto all'inizio ma oddio di anime alla fine non abbiamo parlato quindi no allora il mio anime preferito è molto di nicchia spero tu lo conosca Shinseka Iori no lo devo scelcare su aspetta ma ha un titolo diverso in italiano no 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 non c'è in italiano è Shinseka Iori questa cosa che mi hai colto in preparato Shinseka Iori no l'ho trovato ma guarda lo conosco nemmeno ah l'hai trovato ok sì 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 tratto da una light novel sì è molto bello a me è piaciuto molto è un anime che ti insegna tantissimo non capisci niente finché non inizia ad arrivare verso la metà ok da metà in poi inizia a farsi più chiara la trama e la fine è un escalation incredibile guardalo perché merita 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 mi sono fatto lo screen della scheda così lo scelto assolutamente dai che poi sono curiosa allora di sapere il tuo parere per me è fantastico ti dirò non è il mio preferito a livello di coinvolgimento è proprio finale arrivi alla fine e dici wow almeno per me è stato così e poi vabbè se vogliamo parlare invece di anime un po' più mainstream che mi piacciono molto standsgate figo quello è molto figo standsgate tanta roba poi oddio altri abbastanza mainstream che non mi vengono in mente tipo evangelion ti dirò che non sono una big fan di evangelion però l'hai visto perché sì l'ho visto però probabilmente ho fatto l'errore di guardarlo una volta sola quello probabilmente da riguardare più volte perché ho visto tutto anche con i film però l'ho visto una volta sola e vabbè come tutti odio Shinji quello è ovvio quello è fatto apposta per farti odiare Shinji è un anime dal forte simbolismo sicuramente dalle tante citazioni quindi sì se lo riguardi più volte è sicuramente meglio dovrei probabilmente riguardarmelo per capire meglio determinate cose determinate citazioni appunto come hai detto te perché probabilmente ad una prima visione tante cose non sono chiare no tutto non lo voglio assolutamente no e ti dirò che infatti mi ha lasciato un po' un senso di non ci ho capito niente e quindi purtroppo non l'ho amato moltissimo mi piacevano i robottoni quando combattevano cioè erano i miei momenti preferiti infatti avrei voluto che fosse tutto azione ammetto che sono più per l'azione in generale che per le pare mentali forse quindi per quello che non mi ci sono trovata tantissimo anche se Shinsecaiori è pare mentali all'ennesima potenza quindi poi vedrai eh ma magari è fatto più in uno stile che ti piace alla fine sì eh sì Evangelion è proprio pare mentali depressive di quelle a bestia proprio sì sì sono quelle cose che dico no non farmi ci pensare esatto preferisco essere una persona felice lasciami nell'ignoranza sì sì è molto così no bello però poi vabbè Scaflone che tra l'altro me lo stavo riguardando di recente eh sì perché su Prime se non sbaglio l'anno scorso mi ero messa a riguardarlo poi non so perché ho interrotto ad una certa non ho finito però a quello mi piaceva molto e di cose recenti che ho visto anime belli comunque ti piacciono molto i robottoni mega da quello che capisco è Scaflone sì mi piace vederli ma oddio è un caso in realtà però sì mi piacciono i combattimenti Code Geass ad esempio è uno dei miei anime che l'ho rivisto tre volte Code Geass Gurrellagan l'hai mai visto? no Gurrellagan sai che non l'ho visto quello mi manca è carino molto carino ci sono combattimenti tra robottoni in Gurrellagan ci sono dei robottoni sì non sono proprio robottoni alla Escaflone quella roba lì però ci sono dei robot sì 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 ah vedo in chat che citano Elfellied sì perché ne stavo parlando l'altro giorno di Elfellied è particolare quello a me piace un sacco vabbè io amo gli anime splatter un po' un po' gore così e Elfellied mi è piaciuto tantissimo forse il mio preferito di quel genere è i Gurashi non ha coporoni dove cantano le cicale ah ok sì ok sì che tra l'altro hanno fatto anche il coro Nikai anche quello mi è piaciuto poi vabbè la prima serie è la più bella la seconda pure carina potresti provare Devil May Cry Baby anche se ti piacciono gli splatter devo vederlo Devil May Cry sì Devil May Cry Devil May Cry è quello tratto dal videogioco Devil May Cry ok mentre Devil May Cry Baby è l'anime che hanno fatto nel 2018 credo basato su un manga degli anni 70 bellissimo ah che non c'entra con Devil May Cry no 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 un'altra cosa Devil May Cry Baby è basato sul manga Devil May ma non c'entra nulla con Devil May Cry sì perché il nome sì 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 il nome fa un po' confusione effettivamente ah no allora lo devo vedere no 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 allora adesso me lo segno infatti sì è su Netflix anche quello è una serie originale di Netflix quindi vai me li segno qua da guardare poi vabbè Berserk ad esempio non l'ho ancora mai visto e devo prendermi il manga perché sentivo tutti nel pub che dicevano si si prendi il manga lascia perdere l'anime no l'anime non non ha neanche il 5% rispetto al manga veramente soprattutto l'anime quello vecchio del 97 che c'è su Prime non ha proprio niente a che vedere con il manga i film che hanno fatto più di recente non sono male anche se c'è troppa troppa computer grafica per i miei gusti perché la computer grafica finché è nei videogiochi a me va benissimo negli anime quando comincia a essere troppo no allora se è fatta bene ci può stare basta che non sovrasti secondo me l'animazione tradizionale poi chiaramente un anime fatto tutto in CGI può essere fatto bene o fatto male ad esempio c'è un anime che mi viene in mente recente adesso non mi ricordo bene il titolo su Netflix c'era ed era tutto tutto fatto con computer grafica ti dirò che mi era anche piaciuto all'inizio ho fatto fatica a abituarmi dopo un po' addirittura ti dirò che la trovavo gradevole e adesso non mi viene il titolo ma era di questo ragazzo che in pratica scopriva di essere una specie di ioni che poteva proiettare quest'ombra poi veniva cacciato veniva fuori che c'erano altri ioni come lui sicuramente in chat qualcuno ora ci arriverà prima di me sono sicuro non era anima adesso non ricordo forse in chat qualcuno viene in mente molto molto bello perfect blue purtroppo non l'ho visto e la clinica dell'amore neanche è perfect blue era un entai sì è un entai infatti allora mi ricordavo bene sì no qualcuno lo conosco però non l'ho mai visto la clinica dell'amore perfect blue invece fa parte della filmografia di satoshi con che è uno dei più grandi era purtroppo uno dei più grandi registi in assoluto in assoluto no purtroppo perfect blue non l'ho visto quello lì quello mi manca poi vabbè se vogliamo andare proprio sui classiconi situazioni di lui e lei vabbè tantaroba che tra l'altro ho scoperto da poco che era dello stesso regista di evangelion sì di Aki Anno che però a un certo punto ha lasciato la regia delle situazioni di lui e lei perché credo che fosse in disaccordi con Suda che è l'autore del manga e quindi perché devi capire che i de Aki Anno è molto particolare il classico dito in culo come si direbbe dalla mia parte tipo nel nel manga della moglie di de Aki Anno cioè lei che ne racconta di cotte e di crude a parte che dice che lui tipo si lava una volta al mese che ha questi oh no sì sì ha questi pigiami che quando se li toglie li butta direttamente camminano da soli vanno avanti le colonie e poi è un nerd totale cioè loro erano tipo in luna di miele e lui si guardava a Kamen Rider Ultraman oddio è un pazzoide totale quindi beh oddio sinceramente ci sta secondo me che uno si guarda una brutta persona se penso che lo farei anch'io ma io guardo cioè io quando pensavo quando qualcuno mi diceva te andreste mai al grande fratello sì ma starei tre mesi in pigiama ma non ci penso neanche no io no no perché mi tolgono i videogiochi mi tolgono gli altri ah beh ah no è vero è vero quello è vero è vero però per stare tre mesi in pigiama senza fare un cazzo assolutamente che poi è quello che sto facendo da un anno a questa parte vabbè vabbè anche io mi vesto solo per metà in su oggi sono vestita perché avevo intenzione di andare a buttare la spazzatura cosa che poi non ho fatto quindi quindi mi sono vestita totalmente solo per quello comunque sì allora le situazioni di lui e lei è molto molto bello anche il manga perché poi prende una piega diversa esatto sì 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 tra l'altro cioè parla proprio totalmente di altre cose c'è Arima che viene fuori che è un mezzo non pazzo però insomma ha dei problemi particolari particolari di sicuro non il cavaliere senza macchia che viene descritto nell'anime perché poi sì nell'anime in realtà fa ogni tanto riferimento a questo suo dark side questo suo passato un po' scuro sì ma molto meno piccolo però sì nel manga forca miseria poverino altro che maltrattato no comunque sì Perfect Blue se lo trovi assolutamente consigliato come tutte le opere di Satoshi Kon puoi guardare qualsiasi cosa guarda segnati direttamente Satoshi Kon così quello che trovi trovi secondo me è stato uno dei più grandi assolutamente no questo qui proprio ma anche vedere così le immagini ti giuro non mi ah ma è Splatter non è proprio Splatter ci sono delle scene comunque non lo definirei Splatter ma allora forse fa vedere proprio le scene perché si più thriller ci sono più cose thriller hai presente Inception di Nolan sì ecco Paprika uno dei film di Kon cioè Inception è praticamente copiato da Paprika cioè ci sono delle scene prese pari pari da Paprika di Satoshi Kon ma è gravissima sta cosa eh cioè allora se si vuole far passare come un'ispirazione anche anche perché sai questi giapponesi sono sempre inferiori per come li li vedono loro quindi poi sai gli anime che cosa sono gli anime si possono copiare tranquillamente no però no davvero ci sono delle scene bellissime che stanno facendo anche su Netflix ad esempio Alice in Borderland che alla fine è preso da un manga hanno fatto sta serie che secondo me è fatta molto bene bell'adattamento la devo vedere ancora sì io mi sono vista tutta l'adattamento che hanno fatto della live action a me è piaciuto c'è da dire che io non ho letto il manga mi ha incuriosito e sicuramente mi leggerò il manga perché bello cioè mi ispira voglio sapere come va avanti però da profana da persona senza preconcetti né pregiudizi perché appunto non ho letto il manga ti posso dire che mi è piaciuto perché sai a volte magari se abbiamo letto prima il manga ci guardiamo live action diciamo no che schifo che merda no in questo modo anzi puoi dire che è fatta bene come serie non avendo visto letto il manga assolutamente secondo me c'è stato un po' di apertura anche verso il Giappone e l'Oriente cioè ora a parte noi che già conoscevamo eravamo fan e tutto però da quando Parasite ha vinto anche l'Oscar che poi è un capolavoro secondo me bellissimo l'ho adorato Parasite secondo me è stata come una per gli occidentali è stata una conferma non una conferma una una riscoperta bravo una riscoperta sì qualcosa che era era un po' bistrattato prima effettivamente invece ci sono delle cose pazzesche ma sì che barda io ti dirò proprio lasciando stare un attimo anime e manga io sono appassionata di film horror ero appassionata di film horror perché in realtà sono tanti anni che non ne guardo più saranno una decina d'anni che ho smesso male però ho passato tutto il periodo dell'adolescenza proprio in pissa con i film horror che mia mamma mi voleva portare dallo psicologo perché ho piccoli brividi Stephen King e film horror e ho scoperto mi ricordo da ragazzina proprio tutto il cinema giapponese ma non solo giapponese anche coreano per quanto riguarda il film horror tipo The Ring Zero The Ring è venuto fuori Juul sì praticamente tutte le loro serie horror da cui poi sono stati tratti i film cult occidentali che tra l'altro mi sono piaciuti tantissimo sono veramente dei maestri dell'horror ma scherzi ma vabbè Takashi Mi che lo conosce Takashi Mi che è quello di Ishi The Killer ha fatto tantissime cose prese dagli anime tipo ha fatto dai manga anche ha fatto il film su Blade of the Immortal l'immortale ha fatto il film su Yattaman Ishi The Killer è anche tratto da un manga ed è una cosa pazzesca ora l'ultimo che dovrebbe cioè dovrebbe uscire al cinema al cinema no purtroppo perché sono chiusi uscirà direttamente in un video si chiama l'ultimo Yakuza che magari quello lo trovi mi segno anche questo mi stai facendo segnare un sacco di roba bene bene così poi ne parliamo mi dici se ti è piaciuto o se do o se do dei consigli di merda no no ma sono sicura di no guarda l'ultimo Yakuza ma me lo sono segnato anche questo poi in chat ci chiedono se abbiamo visto All Boy io l'ho visto bellissimo no no non so neanche cosa sia se devo essere sincera All Boy è un film di Park Chanwalk che è tratto anche questo da un manga però ha la particolarità che secondo me è molto meglio rispetto al manga stranamente perché di solito è difficile che l'opera derivata tra virgolette sia meglio invece Old Boy ci sono alcune cose dove io apprezzo molto di più l'anime rispetto al manga ad esempio un esempio è Made in Abyss Made in Abyss per me il manga è nettamente inferiore all'anime lo trovi confusionario? sì sì guarda ce l'ho tutto lì i disegni sono molto scuri so che comunque è in generale il suo stile cioè magari lo stile che voleva richiamare era proprio Cupo però i disegni sono molto scuri sono belli pieni di particolari ma io ti dirò proprio sinceramente se io non avessi visto l'anime tante scene di azione non le avrei capite nel manga sì sì ti si interacciono gli occhi praticamente in tante tavole lo so sono molto belli particolareggiati ma l'anime ti fa ben capire ovviamente qual è l'azione che cosa sta succedendo nella scena nel manga io queste cose non le capisco le capisco perché ho visto l'anime ma se no non le capirei no oppure le capisci se stai un'ora su ogni tavola veramente a esaminarla cosa sta succedendo non l'ho capito cioè aspetta chi è che sta prendendo chi infatti a me piaceva molto e l'ho venduto sono arrivato all'ultimo volume di uscita in Italia sì 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 no io ce l'ho tutto qui però lo tengo più per collezionismo in realtà perché l'anime l'ho adorato il manga lo trovo abbastanza illeggibile peccato perché l'idea è spettacolare cioè l'idea dell'abisso che loro devono esplorare Dungeons & Dragons io sogno di giocare una campagna con ambientazione made in abis sì sì poi vabbè un altro dove preferisco l'anime al manga è Aikyo ad esempio ma lì per una questione proprio di animazioni a parte vabbè l'ultima stagione dove è cambiato il reparto di animazioni però lo studio però le prime due stagioni anche la terza io lo trovate bellissime sai c'è animazioni fuori di testa per un anime sportivo ci stanno molto bene il manga anche molto bello però anche lì non so forse l'anime ha quel qualcosina in più meno statico sicuramente sai quando vedi comunque il protagonista che si lancia per colpire la palla nell'anime ha tutto un altro sapore secondo me rispetto al manga quello devo vederlo io e IQ te lo straconsiglio guarda è uno dei miei anime sportivi preferiti ha delle animazioni pazzesche peccato appunto che abbiano cambiato adesso lo stile lo studio di animazione proprio per l'ultima stagione si vanno molto a risparmio su queste cose ultimamente mi pare di capire ma dice che c'è stato un po' uno scandalo non ho capito cos'è successo c'è stata la 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 disegna non so non so neanche bene come si chiamano poi la direttrice dello studio che ha mezzo scandalo è stata coinvolta in qualcosa quindi ha dovuto proprio cambiarlo totalmente e purtroppo secondo me non è all'altezza di quello vecchio peccato perché era animato veramente da dio Raygan no mi manca anch'io io l'ho sentito nominare però non l'ho non l'ho mai visto non so Traygan è difficile non conoscerlo Anime Night si 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 e ma Cowboy Bebop Cowboy Bebop che bellezza io l'ho riscoperto tardi perché io l'Anime Night non l'ho vissuta in diretta per esempio Evangelion che c'era sull'Anime Night io comunque l'avevo già conosciuto con le con le VHS io invece prima direttamente e Anime Night non l'ho seguita tanto no io si Nuiash Excel Saga non mi perdevo un episodio Excel Saga per esempio fa morire da le VHS tutti lì li davano si Traygan Slam Dunk le perle più belle sono uscite dall'MTV Anime Night anche Death Note al tempo mi pare mi sembra anche le situazioni di lui e lei era su Anime Night tutto lì davano tra l'altro Slam Dunk se hai visto solo l'anime leggi anche il manga se riesci perché questo è solo l'anime di Slam Dunk il manga è un'altra cosa praticamente cioè talmente talmente meglio che è come se fosse un'altra cosa l'anime è carino però infatti che l'anime è brutto io sono lì no è bellissimo l'anime di Slam Dunk ma forse perché ho ricordi appunto di ragazzina magari se leggessi il manga sicuramente no è esatto ma perché magari ti dicono che è brutto rispetto al manga perché rispetto al manga veramente è brutto cioè il manga è talmente superiore che effettivamente beh diciamo che in Slam Dunk l'anime era un po' ehm ai livelli appunto dell'animazione di Italia 1 sì sì esatto era quella tipologia lì tipo Olly e Benji dai per come era fatto mentre il manga veramente raggiunge delle vette assolutamente incredibili e senti ho visto che invece parlando un po' di fumetti occidentali stai riscoprendo non so se lo stai leggendo per la prima volta o se lo stai riscoprendo in questo periodo quel capolavoro meraviglioso di Sandman sono il quinto volume sono dodici adesso mi ricordo adesso li sto guardando che ce li ho sulla mensola e praticamente poco dopo le feste di Natale mi è stato regalato tutto il cofanetto il cofanetto sì anniversario che è un'edizione veramente di pregio bellissima e sono al quinto volume me lo sto mangiando cioè l'ho iniziato un mese e mezzo fa cioè sono volumi grossi così prima di andare a dormire mi leggo più che posso guarda è bellissimo è bellissimo ti giuro io non sono non sono mai stata grossissima amante dei fumetti nel senso leggo i fumetti vabbè da da quando ero piccola con i Simpson magari Spider-Man Bartman questi qua oppure Topolino però non ho mai avuto una grossa cultura di fumetti ne ho un po' anche alcuni americani però era più per una questione di collezionismo ma perché mi piace collezionare cose belle in generale e Sandman è stato un po' una scoperta perché ti dirò l'ho scoperto da YouTube perché c'era questa pubblicità che continuava a girare ininterrottamente di questo audiolibro che deve uscire di Sandman e io ho sentito questa persona che parlava e diceva scaricate l'audiolibro di Sandman a breve lo troverete bla 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 che se non sbaglio se non sbaglio era proprio Neil Gaiman nella pubblicità a dirlo era lui? eh se non ricordo male era proprio lui ha una voce incredibile e guarda ma ha fatto un regalo incredibile e io praticamente ho scoperto lì con questo trailer che continuava a girare l'ho visto una volta l'ho ignorato l'ho visto due volte ho detto mi incuriosisce l'ho visto tre volte ho detto fammi andare a vedere cos'è sto Sandman e niente ho googlato Sandman e mi è uscito fuori praticamente sto mondo mi esplosa la testa in quel momento ho detto ma cos'è sto fumetto c'è un fumetto dove ci sono Batman dove ci sono non lo so Barbie e Ken le fate cioè c'è veramente i serial killer ho detto no aspetta fammi recuperare sta cosa e te lo giuro me lo sto mangiando l'ho iniziato un mese e mezzo fa lo sto divorando bellissimo secondo me è il fumetto più adatto da poter far leggere a qualcuno che ti dice i fumetti no oppure alla gente che ti dice i fumetti non sono arte o non sono letteratura sono d'accordo sì 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 gli dai Sandman in mano e gli dici ok adesso ricrediti è una bomba veramente io lo consiglierò a tutti sì 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 anche se è particolare non so se effettivamente tutti riuscirebbero a capirlo esatto esatto a dei io poi tra l'altro leggo prima di andare a dormire ci sono delle volte che alcune pagine alcune tavole me le devo rileggere due o tre volte ma non sei l'unica assolutamente a volte me lo rileggo due o tre volte dico aspetta cosa è successo qua non ci ho capito niente sì 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 un po' troppo incatenato però vabbè guarda chi non dice di farlo mente secondo me ci sono alcuni punti dove dici ma che cazzo è successo non ho capito sì sì però bello 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 e vabbè Sandman è un personaggio fantastico guarda ti dirò che mi sono vabbè io poi quando mi fisso con le cose parto sempre in quarta ero lì l'altro giorno che rimuginavo perché io non ho tatuaggi non ne ho e pensavo neanch'io e pensavo cacchio però un tatuaggio di Sandman me lo farei troppo vabbè perché è bello come personaggio proprio sì 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 bello ti giuro mi sono innamorata di quel personaggio proprio bellissimo vabbè anche anche sua sorella Death anche morte sì bellissima lei mi fa infastire infatti no sarebbe sarebbe figo ma poi in realtà te ne pentiresti sei una di quelle che pensa di pentirsele di un tatuaggio no pentirmene no penso però che non avrei voglia di spiegare la storia a tutti quelli che me lo chiedono che cos'è che cosa vuol dire che palle esatto basta è una persona che mi piace lasciami stare sì sì no sì ti dicevo tutti non so ora non mi ricordo il punto dove sei arrivata te se si sono visti tutti allora il quinto volume sono praticamente dove dove sta raccontando la storia di Barbie dopo che si è lasciata con Ken ok wow hai incontrato Wanda hai incontrato Wanda i fratelli di sogno si sono visti tutti i fratelli e le sorelle di sogno si sono visti tutti anche quello disperso sì sì lui ebbè quello si vedrà poi gli altri si sono venuti tutti fuori ci sono delirio per esempio desiderio io ho ancora delirio devo approfondire perché è solo comparso è stata una comparsata desiderio anche mi sembra abbastanza particolare come personaggio sì 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 infatti non vedo l'ora di scoprire di più perché poi è molto bello Sandman perché inizialmente quando inizi a leggere le prime pagine mi sembra che tutte queste storie siano sì tutte legate al mondo nirico di Morfeo dei sogni però tutte slegate sì esatto poi in realtà andando avanti scopri che sono tutte collegate l'una con l'altra personaggi che all'inizio magari avevano fatto solo da comparse tipo Barbie che la vedi per due secondi tipo nel secondo volume come mi sembra sì poi ha grossissimo spazio ad esempio nel quinto che sto leggendo ora quindi personaggi che ritornano in veste diversa perché c'è wow Barbie Barbie tu la vedi lì tutta sorridente ciao sono Barbie e io sono Ken e poi te la vedi nel quinto volume che è totalmente diversa perché appunto sei lasciata con Ken e quindi ha mille paranoie sfatta bellissimo è uno scrittore incredibile ma hai letto per caso anche qualche suo libro di Neil Gaiman no è la prima volta che mi approccio a questo artista artista perché è un artista hai detto benissimo assolutamente e che genere di libri ti piace leggere di più oltre ai libri game ovviamente che ci dicevi prima gli horror gli horror sono quelli che mi piacciono di più da leggere ti dirò anche più dei fantasy perché ho letto tanto di fantasy però il fantasy è un po' difficile specialmente prima di andare a dormire io leggo sempre per rilassarmi magari prima di dormire e il fantasy a volte è un po' lento poi vabbè dipende adesso sto leggendo La ruota del tempo che è molto molto bello sono però 14 volumi quindi penso che fra due anni e mezzo circa finirò perché adesso l'ho messo in pausa per leggere sempre e però in generale si Stephen King è il mio scrittore preferito leggo gli horror e mi piacciono anche i romanzi di avventura romanzi storici e anche quelli tipo non so il dorado quindi robe tipo alla Indiana Jones si 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 però in generale l'azione l'avventura non non leggo autobiografie ecco cose di questo tipo sono più per l'azione bene 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 perché nel anima infatti eh si è vero poi alla fine sai i generi preferiti ritornano sempre sono quelli anche io grande amante dell'horror mi piace nei manga mi piace nei libri mi piace nel cinema allora starai amante dell'horror anche tu conoscerai sicuramente quel mangaka oddio quello che ha fatto la spirale giungito sì l'ho anche intervistato giungito davvero sì 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 no bellissimo che tipo è è un tipo dolcissimo what è proprio il classico uomo che vorresti avere come zio dolcissimo non avrei mai pensato come aggettivo per lui è proprio un pezzo di pane un uno dei più dei più dolcini che abbia mai visto tra i mangaka io ti giuro adesso ti sfogherà su tavole no ebbè sì alla fine sai sì probabilmente sì è tutto l'opposto di quello che ti aspetteresti da uno che disegna quelle robe cioè lui fece la conferenza a Luca Comics parlando praticamente per 45 minuti su un'ora dei suoi gatti no sì sì e ci ha fatto anche un manga sopra poi ma è stato veramente su un'ora di conferenza a parlare 45 minuti di gatti ma quando è che è stato a Luca lui nel 2018 a Luca se non ricordo porca miseria me lo sono perso incredibile che è stato l'anno un po' del suo boom a livello editoriale in Italia che tutti gli editori cercavano di accaparrarsi qualcosa e quell'anno infatti sono riuscito a fare l'intervista un sogno per me perché lo adoro sì sì fantastico lui anche a me è piaciuto moltissimo è a mani basse penso il manga horror più creepy che io abbia mai letto Uzumaki dice sì sì perché poi quell'horror è anche molto molto psicologico sì è psicologico ti lascia ti senti sporco quando hai finito di leggere è bellissimo ti lascia proprio quella sensazione di umidiccio addosso non ci so spiegare è proprio figo bello sì ma perché poi comunque parla anche della società alla fine lui facendo tutto il discorso delle spirali che avvolgono questa cittadina lui ti fa sentire sporco come dicevi te perché comunque ti parla del desiderio che può essere sessuale di soldi di potere e quindi alla fine raggiunge tutti in quel modo sì sì riesce a toccare tutti in qualche modo e ti lascia sentimenti molto contrastanti molto molto bello cavoli infatti in realtà ho letto solo quello dei suoi ma ne leggerei volentieri altri infatti poi se hai consigli da darmi sì 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 sono tipo orecchie assolutamente poi ti consiglio Roma poi poi dal pesato dopo allora mandami qualche link qualche è che mi leggo tutto il suo mi piace da morire se ti piace comunque anche la letteratura horror lui ha fatto anche la la sua versione di Frankenstein che ah lo so praticamente nel volume italiano che si chiama Frankenstein e altre storie c'è principalmente la la sua versione di Frankenstein e poi un'altra storia bellissima di viaggi spazio-temporali horror ed è uno dei volumi migliori di questa sua raccolta che sono storie volumi unici che raccolgono o storie brevi da un capitolo ciascuna o comunque storie brevi due o tre storie ogni ogni volume ah una cosa un po' alla George Martin si non so se hai letto la fantascienza sua che lui è uno dei miei scrittori preferiti di fantascienza che sembra assurdo dirlo però per me lui è un maestro della fantascienza mi spiace che sia stato riconosciuto solo per il fantasy eh beh si alla fine si le i re di sabbia non so se l'hai letto che è una raccolta sua di racconti no te lo straconsiglio Kirio ti giuro quella è l'apoteosi di George Martin cioè c'è gente che pensa che lui sia un bravo scrittore dopo Gott e io vi dico ragazzi leggetevi i re di sabbia di George Martin sono proprio racconti brevi è una raccolta di racconti brevi cioè i re di sabbia e le torri adesso non ricordo l'altro però sono due o tre libri appunto raccolte così c'è il viaggio di Tuff e i re di sabbia per me è uno dei più belli che lui ha scritto sono proprio racconti brevi fantascientifici horror e nun fichissimi belli 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 e lì proprio dici wow che scrittore pazzesco anche perché secondo me è anche più difficile riuscire a esprimersi bene dei racconti brevi sì perché devi comunque concentrare tutto lì e la stessa cosa per Giungito lui ha fatto delle storie brevi di 30-40 tavole pazzesche è difficile non avendo a disposizione concentrare tanto poi non puoi appunto allungare il brodo infatti no io quello quella è una lettura che consiglio sempre molto a chi si vuole approcciare magari a racconti di fantascienza perché vabbè Martin il modo in cui scrive è molto chiaro cioè non è prolisso non è non è ricco di dettagli non è tolkeniano ad esempio quindi se lo leggi proprio tranquillissimamente anche dopo una giornata stancante che non ti pesa ed escrive molto bene lui infatti ci ha rosicato molto di essere diventato popolare con il fantasy perché lui è nato come scrittore di fantascienza e io vi assicuro che è un ottimo scrittore di fantascienza e rosico anche io con lui che non sia popolare per quello proverò a leggere quello che hai consigliato assolutamente di sabbia secondo me ti può piacere particolarissimo senti io ti lascerei con l'ultima domanda e voglio sapere cosa ti manca di più magari delle fiere di settore eri una che partecipava regolarmente alle fiere ovviamente immagino credo che sia una delle cose che ti manca di più no? sì assolutamente sarebbe stato il decimo anno a Lucca l'anno scorso quindi tanti tanti anni ho iniziato molto presto ad andare appunto a Lucca alla Games Week tante tante fiere ma allora la cosa che mi manca di più in assoluto è il rapporto che avevo con i ragazzi della community quindi poterli vedere salutare scambiare due battute ridere insieme quella è una cosa che mi manca tantissimo gli abbracci mi mancano da morire e io sono sempre stata una che le mie amiche mi sgridavano le mie colleghe mi hanno sempre sgridato perché appunto io sono tipo oh che bello wow finalmente ti vedo e ti stritolo capito quindi le mie amiche smettila smetti di abbracciare tutti gli sconosciuti io sono come te più o meno credo di essere stata una delle cause dello spargimento di covid da febbraio dopo la fiera di Bologna perché mi ha abbracciato tutti vabbè ancora non si sapeva purtroppo è venuto fuori dopo è anche l'ultima fiera dove sono stato io mi sa Bologna Nerd è stata l'ultima fiera a cui sono riuscita ad andare con tutto il gruppone d'intail poi mi manca proprio stare con le persone in questo contesto con persone simili con i nostri simili sì 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 assolutamente e poi mi mancano le bancarelle con i manga i fumetti le carte andare a vedere sai le occasioni se c'è qualcosa di figo che poi occasioni non sono mai in realtà perché o contratti proprio stile sì sì no raro trovare delle occasioni alle fiere rarissimo però mi è capitato appunto di incontrare ad esempio Siruelo o gente che seguivo quindi sì quello mi manca molto spero che si possa tornare presto a fare le fiere e a vederci e a vedervi così conosco anche voi Kirio che mi farebbe piacere assolutamente assolutamente speriamo speriamo perché a me guarda come hai detto te la cosa che più mi manca delle fiere a parte le bancarelle e tutte che poi ora come ora si trova tutto online alla fine cioè brutto da dire magari però essendo realistici è così cioè anche la roba giapponese non è che quando ero piccolo io mi ricordo che dovevo fare dei giri per trovare dai Yamato dai Yamato video dai Yamato video per trovare le cose ma lo so io uguale dovevo girare le fumetterie più imbucate ma ce l'hai l'ultimo fumetto di Angel Sanctuary che sembrava che spacciato è chiaro la prima serie ma anche anche gli amici di Penna io ho vissuto tu prima nominavi Cortile del Cuore Gokinjo Monagatari nell'edizione giapponese io ho tutta l'edizione giapponese che mi spedì una bambina ma quando io avevo la sua età quindi 8 9 10 anni e gli chiesi le chiesi a lei ma mi puoi mandare il primo numero così voglio vedere com'è che non c'era ancora in Italia lei si si dopo 2-3 mesi perché ovviamente non è che c'erano super corrieri per via aerea me lo mandò tipo e mi arrivò tutta la serie completa poi mi scrisse wow no abbiamo deciso io e la mia famiglia di regalarti tutta la serie io glielo volevo pagare anche no ti regaliamo tutta la serie completa no ma che cosa carina oh mio fantastico bello va bene va bene si mancano molto speriamo che che le cose migliorino a breve e niente io ti ringrazio tantissimo Sara davvero per essere stata qui mi piacevolissima chiacchierata molto 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 adesso faccio un ride agli amici di Anime Click e immagino che dopo ci vedremo da da Dario ora vediamo se io faccio un saltino lì al pub se c'è posto che mi faccio due chiacchierine che è un po' che non li vedo va bene carissima è stato davvero un piacere ringrazio tutti quelli in chat il ride non so se non so se mi va perché che sta stream sta facendo un po' le video stasera io lo risparmio che ce l'hai che lo devi accettare però eh infatti non mi dà il ok forse ci sono ciao a tutti va bene grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti